Quattro giorni di iniziative per rivendicare diritti e affermare la contrarietà ad ogni forma di discriminazione contro il mondo omosessuale. Si terrà dal 30 gennaio al 2 febbraio la Candelora 2015. Come ogni anno si concluderà con la tradizionale iuta dei femminili a Montevergine per rendere omaggio a Mamma Schiavona. Ad organizzare l'evento l'associazione Aiken che ha presentato il calendario insieme all'assessore alla cultura del comune di Avellino, Nunzio Cignarella. Presentazione di libri, spettacoli, teatrali, parti, rassegna cinematografica. Ospite d'eccezione Vladimir Luxuria che sarà da Tripaldo il 30 per partecipare alla narrativa delle differenze e il primo febbraio a Summonte per un incontro con sentieri mediterranei. Tema di quest'anno uomini, martiri, supereroi perché ad essere dichiararsi omosessuali ancora nel 2015 ci vuole coraggio. Uomini, martiri e supereroi. Supereroi è stata una provocazione quest'anno perché i gay in Italia sono dei supereroi secondo me perché oggi nel 2015 ancora non c'è una legge che ci tuteli e quindi ho lanciato questa cosa supereroi proprio per questo motivo. Quest'anno il Vescovo ha fatto tappa a San Potite dove c'era un presepe omosessuale. Che segnale vi ha fatto piacere? Beh un segnale molto di apertura. Io infatti quando ho letto questa cosa sui media sono rimasto molto abbastanza sconvolto da questa cosa perché poi io penso che l'apertura nasca sempre dalle piccole province quindi avere un presepe dedicato poi all'amore secondo me non è questa è stata una provocazione come noi supereroi lui ha fatto una provocazione anche lui e che è molto importante provocare. Oggi bisogna provocare per ottenere dei risultati. Avellino è ancora una città di provincia nel senso che le persone si nascondono quindi io fare una candelora ad Avellino avere la visibilità è molto importante perché avere la visibilità significa che altre persone capiscono che non c'è nessuna differenza quindi dobbiamo parlare di differenza non ci bisogna avere nessuna differenza. Sì è una città abbastanza nascosta però naturalmente sta crescendo